Questo pomeriggio presenta a Casino di Sardegno il suo romanzo, Schegge di memoria, di cosa ti dà? Schegge di memoria è un romanzo di Cristiano, nel senso che di Cristiano è proprio uno dei personaggi, quindi un romanzo che è una parte storica, una parte psicologica, dove si scava nella memoria di questo psichiatra lontinese che si chiama Lord Bill e che è un posto molto scuro. Ho deciso di dedicare a Dickens questo romanzo in quanto sono rimasta commossa dalla storia dolorosa di Dickens che aveva il padre spagionato, in questa regione non si vede, anche perché quando ho scritto il libro mi trovavo in un periodo molto difficile della mia vita e quindi ero molto sensibile ai problemi degli altri.